Gli acquisti elettronici stanno diventando una metodologia sempre più diffusa tra le pubbliche amministrazioni. Una procedura, quella informatica, che applicata all'acquisto di beni e servizi garantisce la trasparenza e una concorrenza leale tra le imprese che partecipano ai bandi. Uno dei talloni di Achille della pubblica amministrazione italiana, nel suo complesso, è proprio l'acquisto di beni e servizi, in cui, nonostante la cura del governo Monti, non si è riuscita a tagliare quasi nulla. Anzi, negli ultimi mesi la spesa è aumentata. Sugli acquisti elettronici e sulle opportunità che questo offre alle imprese, ha focalizzato la propria attenzione Sardegna Ricerche, che ha attivato uno sportello a palto imprese, che garantisce alle aziende sarde formazione e affiancamento per l'utilizzo delle procedure informatiche per la partecipazione alle gare d'appalto. Sul tema, oggi a nuoro, Sardegna Ricerche ha organizzato un convegno. Lo sportello a palto imprese fornisce una gamma di opportunità, essenzialmente alle imprese, perché è focalizzato sulle imprese. Stiamo parlando quindi di formazione gratuita, di alta professionalità, consulenze tecniche, consulenze online, sia online che sul territorio. E' sufficiente registrarsi allo sportello a palto imprese, www.sportelloapaltimprese.it, compirare una serie, semplicemente dare l'email e poi i soggetti verranno ricontattati, fornendo una serie di informazioni come registrarsi. Dopodiché accederanno gratuitamente a tutti i tipi di servizio, ripeto, quindi dalla formazione alla consulenza, possono partecipare alle giornate seminariali come questa, di nuoro, dove si toccheranno diversi temi interessanti e dove soprattutto, questo è interessante ed innovativo, le imprese incontrano le stazioni paltanti. Grazie. Grazie.